raga siamo su minecraft che era una serie molto richiesta da un mio scritto va bene ok poi un altro scritto che si chiamava r8 player 1 ha detto che non era andato in miniera e oggi lo andrò in miniera normalmente quindi prendiamo la pala e iniziamo a scavare ok scaviamo è qui no aia prendiamoci la mira che è importante ok iniziamo a scavare qui spegniamo quest'area ok ok quasi tocca il piccone l'inventario messo un poco scombinato lo andiamo a giustare è la nostra cata vecchia purtroppo è una cata vecchia da quella casa la mezza cassa che abbiamo vabbè tanto quando diventerò forte ce l'abbiamo una casa che con la c grande la c maiuscola si dice aspetta credo che stava venendo a fare notte sono scappa proprio ok ok vabbè per ora può bastare la pietra l'abbiamo ottenuta quella la sarà casa mia e non me la tolgo dalla testa finché non ce la faccio anzi posso anche fare una cosa io faccio ruzione in una stanza blocco la porta ecco qua la mia seconda casa si può dire anche ecco questa casa ah non mi ero fatto ok no ce l'ho qui facciamoci un poco di noce l'ho da posto vabbè usiamolo su tutto dai uso questo combustibile no no scusa tutto il contrario così mi da un po' di questo funziona? si che devo fare delle torce che non si vede un cavolo mi brucia il letto però qua no ho scelto pure un punto molto bello che si vede addirittura sulla mappa questa villa arborea si chiama così ma però in altri dispositivi si chiama in altre maniere facciamoci la fama di queste robe allarghiamo la nostra casa la terra è un materiale molto peggiato sapete ok così può andare bene poi ci dovevo mettere bacche dolci posso fare di io uno due tre facciamo uno di cinque quattro no cinque e sei questo deve essere grande poi non ci starà più il problema nel cibo però dove stiamo? siamo allineati con questo voglio fare altresa di qua uno due tre quattro cinque sei giriamo così e mi serve tant'alta terra mmm troppo di sì vabbè stiamo facendo notte si può dormire? no domani devo raccogliere un po' di terra clicchiamo finché non dormiamo ah no a proposito prima che ho prima che ho dormiamo io voglio farvi dire una cosa però di sicuro che voi l'avete vista però ve la dico lo stesso un attimo che eh così vedete faccio il bastone ok se io faccio le torce di qualsiasi tipo che sia questa e questa e faccio così guardate sempre la mappa si illumina io non ho scoperto da poco poi non lo so oppure l'aggiornamento boh però è una cosa abbastanza figa troppo che se tu non hai la mod non è che si vede nella caverna così è forza di pensare di vederci qualcosa dobbiamo prendere la terra c'è proprio tanta di terra abbiamo uno strato grande dobbiamo potenziare gli strumenti mi piaceva tutto il legno ok no mi si è portata la palla facendo un'altra per forza me le devo fare rompiamo questo altro pezzo qui ok poi ce ne ho 44 è abbastanza si dai ce la facciamo ma come completarlo è una cosa molto bella è una cosa molto efficace in sé mi sembra molto invece ho pensato pure di mettere l'acqua qua così che esco più velocemente però per fare il secchio per fare il secchio per avere il ferro dobbiamo andare in miniera per trovarlo solo è un casino se non andiamo in una miniera già scavata non ce la facciamo però oppure si non lo so se mi permettevi i blocchi a cavolo non ce la facciamo anzi non so se sto dicendo il gran funzionale è il metodo dell'acqua no non ce la facciamo eppure sono 44 quelli che ho preso no per prendere quello che ci facciamo male adesso capo con le mani se non erano 5 ci mancavano ancora un problema per la serie così però vabbè contentiamoci per ora per ora oppure ora potrei fare eruzione anzi la farò domani tanto che ho preparare meglio alziamo le piante mettiamo questo buco qui ok ok ce ne erano troppe cose vabbè ce ne stanno eccome lì prendere mi sembra che la prenda te stesso vabbè vabbè questa qualità speriamo prendiamo prima tutte così ok prendiamo pure questa non mi prenderanno in fe fangela mettere là tanto non fa male mettere un'altra qui è stato per andare più veloce dopo qualche motivo valido vabbè già è già cresciuto va bene dipende dalla rotazione non lo so vabbè con il tempo più questi quantità vabbè possiamo prendere queste facciamo queste qua così e ora tengo fame faccio no qua non devono bloccare l'accesso ma subito riesco guarda cosa cosa dovevo fare ah mi dovevo fare tutti gli utenti in pietra si se la posso fare in pratica la zappa facciamo poi si paga tanto le poco prendere la pietra però questi oggetti qua mettere in ambientale non fa fastidio quindi no no questo no questo si e questo si se non lo sai bene quando si danneggiano gli strumenti tipo si vedono dei segni vostro è bello vabbè però ce ne erano ragionati quindi mi lamento io facciamo questo qua e però facciamo un tono in pietra allora facciamoci altre tocce ci servono vi ho giusto all'inventario che ho postano qui è un casino questo vabbè prendiamoci lo sto per questo mi serve questo non mi serve dai questo no questo per ora no questo neppure questo si 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 questo no però è nuovo no si merita una giusta cosa come si dice la giusta morte addio questo iniziamo alla coltivare dai è una porta vabbè porta che ci sale qua vabbè ora può andare bene sistemiamolo un attimo fortnite mettiamo così prima il più importante uno due tre trento era così 4 e 5 ok ora no aspetta vabbè vabbè posso farlo devo si rompeva ora togliamo tutte le app e facciamo così ok insieme a questo qua abbiamo vero no si giusto giusto prendiamolo un altro perché questo qua dà un po' di fastidio da vedere se lo facciamo in mezzo ormai è meglio come si è un caso anzi che me ne frega a me faccio in mezzo ormai che è meglio prendiamo un po' di terra sento brutti rumori cosa è un bug no si è baggato uno slime oddio quanto fa horror da vedere no tengo paura non c'entro mai più anzi mettiamoci subito le torce meglio c'è qualcosa in più ma non c'è nessuna superficie sti bastardi no no non lo so difficile e mai non posso continuare non posso stare con questi qua nelle orecchie se tu devi prendere un relax però per me non è un relax aggetevo c'è proprio qua vicino chi è quello possa vuole da me che problema hai signore non mi signore c'è la mia spada ma che cosa hai in mano gli stai rubando le cose hai droppato qualcosa lì questo sarà buono o non lo so però tengo fame quindi addio non me ne frega già un poco di ahia di queste cose biologiche ma io non sento sempre sto slime sento che sto per terra però non lo vedo sono sciagato vabbè sono bio marchiata elio bowman bio elio bowman è vero devo fare prima questo ma io farlo ora anzi meglio che si questo qua può andare pure in può che camminare sulla terra meglio quindi rischiamo quantomeno impossibile signore però mi sta sul cavolo un poco ma che cosa mi vuoi pescare mi vuoi pescare tu mi sembra che hai un arco in mano se tu mi vuoi pescare questo non pesce tu lo sei il futuro è quasi un blocco di profondità io non tengo nessun problema eh eh e qua mi era spettato in faccia quello che ho detto una seconda fa me la prenderà altri due di terra adesso faccio si no 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 non fare ste cose fa che cos'è ok qua lo mettiamo qui ok va va e andiamo i semi prima dobbiamo arare tutto io quando gioco su like se il box vi ho fatto il video su carlo video di black hole pass 2 andatelo a vedere non sapevo cosa usavo questo oggetto non c'è la zappa poi dopo l'ho scoperto grazie un mio amico che mi ha detto lol vabbè l'aeronabo supremo dai prendi qualcosa ma non ci sta grano qui ci stanno semi eccolo perché qua gli stanno quest'erba così ampicanti si chiamano comunque basta il fetto significa che cresce più velocemente lo sapete tutti sicuro ora secondo me ci dobbiamo addentrare pure il giorno funziona sta cosa va bene vai le cose più importanti mettiamo la doccia qui ho poco di cibo lo mettiamo a cucinare oppure le prendiamo di attenzione le bacche per ora andiamo a cucinare questo così questo qui mettiamo a fare il montone così ok andiamo aspetta i blocchi non posso usare la pietra un privilegio usare la pietra forse no vabbè ma il suo il primo è sceso ci facciamo di terra dai anzi ma è troppo d'aria povero secondo me un po' di legna non fa male salvo mi stavo preso il cavolo ok fatto già qualcos'altro che ce ne ho venti ok andiamo il cibo il cibo ma è fortuna che non devo fare nessuna missione di preparazione forse no li prendiamo direttamente zero eh ma qua come ci passo io fino alla non ci ho pensato che cos'è oh no come ci passo io fino alla sono rimasto bloccato oh come ci passo ah possiamo fare una fila vera di qua non lo so proviamoci è vero una fila tutto attorno beh così può bastare siamo passati di qua che deve continuare lo faremo nel prossimo nel prossimo video e tante altre cose che ora non mi vengo in mente vabbè andiamo per l'entrata è meglio di no di sicuro usiamo un po' di pietra per salire un attimo pure se è un grande spreco che potremmo usare il legno però meglio di no facciamo un po' così forse 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 chiudiamo subito quella porta oh porca merda lezzo 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 ok problema risolto quando è suggerita sta struttura vero? si vabbè comunque questo qua ce l'abbiamo vabbè ragazzi secondo me per ora per oggi è tutto il video sta durando troppo ci vedremo domani ciao ciao